Ok, video un pochino applicativo e anche esplicativo della multirisoluzione che a me sembra molto interessante. Quindi per farlo vediamo un cubo e proviamo a scolpire non il cubo ma una fascia che ci costruiremo attorno a una sorta di benda attorno al cubo. Così facciamo vedere un esempio quasi pratico della sculpting. Cosa facciamo? Aggiungiamo una mesh, aggiungiamo un cilindro questo cilindro lo facciamo un pochino più grande del cubo per tale che lo raccolga e poi andiamo in modifica e 3 per selezionare le facce selezioniamo la faccia di sopra e poi shift click la faccia di sotto x per cancellare facce e vogliamo praticamente fare una sorta di benda cioè di questo. Quindi prendiamo la modalità modifica ok, facciamo A per selezionarlo tutto SZ per fare una benda magari ancora SZ ok, una benda più o meno così e questa benda diciamo che vogliamo portarla quindi facciamo scalarla in modo da metterla proprio la mettiamo in modalità ortogonale così la vediamo la scaliamo la mettiamo il più vicino possibile al cubo anzi forse per motivi che vedremo dopo conviene metterla un filo più distante qua sempre con scala dicevo perché l'ho allargata perché questa bendina adesso è monodimensionale che vuol dire che c'è una sola faccia una sola faccia vuol dire che se lo vediamo con la dunque abbiamo l'opzione che permetteva di vedere le normali su 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 vabbè statistiche ce le mettiamo lì ehm sì per vedere le normali come intendo io bisogna essere in modalità oggetto vedete abbiamo orientamento facce come vedete abbiamo qui questa faccia e non va molto bene perché vedete che è rossa dentro e blu fuori ma noi interessa che tutta la scena sia blu quindi togliamo un attimo l'orientamento facce e rendiamo solida tra l'altro si vede anche che è sbagliata perché le facce rovesce sono trasparenti si vede attraverso quindi per ottenere l'effetto doppia faccia ci sono vari sistemi uno dei più semplici che ho trovato per questo genere di cilindri è quello di fare un'estrusione delle mesh quindi faccio estrudi lungo le normali e semplicemente muovo il mouse e ottengo praticamente una una fascia che a questo punto ha tutte le normali a posto per essere sicuro che le normali siano a posto vado qua orientamento facce e in effetti non erano per nulla a posto quindi faccio dunque le normali si possono andando in modifica e abbiamo non so se le normali sono mesh normali qua faccio il flip ah si perché devo selezionare tutto quindi seleziono tutto quindi aspettate quindi faccio A seleziono tutto andiamo nelle normali che abbiamo visto prima normali qua facciamo ricalcolare tot side giusto per fare il ricalcolo e sono diventate effettivamente tutte giuste quindi attenzione sempre a controllare molto bene le normali attraverso questa funzioncina poi togliamo adesso visto che le normali sono opposte questa visualizzazione io suggerirei di vedere ancora la modalità sempre qua ma ok quando si scolpisce comunque quando si modella può essere interessante avere sia la visualizzazione solida ma darci anche un po' di colore quindi usare questa illuminazione cat matte come la chiama e la cat matte c'è una alcuna tipo questa che sembra di lavorare veramente con la tipo pongo o l'argilla che può essere anche interessante perché ci sono molti modi di vedere nel senso qui tipo sabbia eccetera ma secondo me fra queste la più elementare è questa questa qui l'argilla e lavoriamo con l'argilla a questo punto ci concentriamo a scolpire questa fascia e scolpiamo questa fascia col metodo multires allora per farlo col metodo multires occorre avendo selezionato questo oggetto che sarà quindi da questo punto la nostra fascia la nostra fascia andiamo nel modificatore e ci aggiungiamo in multirisoluzione allora cos'è il metodo multirisoluzione? è un metodo che permette di scolpire l'oggetto con vari gradi di precisione quindi in particolare questa fascia ad esempio noi vogliamo scolpirla in modo tale da avere dei cioè spostarla in dimensione eccetera seguendo un po' l'interiatura esterna ma vogliamo poi anche magari scolpirla con dei dettagli più molto più fini e fare in modo tale che l'eventuale scolpimento della versione esterna non deformi lo scolpimento che abbiamo fatto nella versione interna è un po' difficile da spiegare parole ma è molto geniale allora questa cosa qua la si fa andando in multiris e poi subdividendo un numero di livelli adeguato vedete che con il livello 1 diventa già un pochino curva ma è già ancora insufficiente per le nostre per lo sculpting quindi di solito chi usa questa tecnica va abbastanza su quindi va 4 o 5 quindi se noi andiamo a 5 abbiamo 131.000 vertici ma diciamo che siamo abbastanza a posto ora notate solo che qua c'è un piccolo problemuccio che dovevamo risolvere forse prima che vuol dire che così non sembra proprio una banda le bande sono un po' tagliate sopra quindi cancelliamo un attimo questa cosa e selezioniamo solo i due andiamo in modifica selezioniamo quindi alt a per deselezionare e alt e click no selezioniamo i verti cioè le linee e poi alt a e poi facciamo alt click shift alt click per selezionare questo e poi shift alt click e shift alt click perché qui voglio metterci un uno smooth sarebbe un bevel si chiama in inglese un control b quindi facciamo un piccolo bevel e abbiamo questo oggettino e facciamo il bevel così allora facendolo così praticamente vedete che rimane un piccolo rimane una zona diciamo costante sopra e sotto e rende un po' meglio l'effetto fascia tra l'altro volendo possiamo anche nel bevel dirgli di usare non uno ma due spigoli per ottenere praticamente un arrotondamento ancora migliore e vabbè proviamo a tenerla così e riapplichiamo su questa struttura il famoso multi-rays multi-risoluzione e andiamo in on-sup dividere eccetera 3 4 5 vedete che avendo fatto quel trucco avendo messo il bevel all'inizio sono riuscito a fare in modo tale che questo appaia più propriamente come una come una fascia invece prima vi guardate che era venuta un po' appuntita ora a questo punto io lavoro su questo su questa struttura e cerco di fare in modo tale col metodo di sculpting e quindi per mettere sculpting la cosa migliore se voglio disporre la fascia è di lavorare su un livello abbastanza basso quindi per dire lavoriamo sul sul livello o 1 o 2 diciamo che 1 adesso modalità oggetto andiamo modalità scultura ok vedete che man mano che è a basso livello mi fa vedere che ci sono meno punti però io posso andare a prendere la famosa grab prendi quindi se clicco il grab me lo faccio un pochino grossino perché voglio avvicinarlo vedete che mi punta a certe cose quindi prendo la cosa e cerco di avvicinarla vedete che avvicina praticamente la parte come se fosse una sorta di cuoio quindi adesso tra l'altro lo fa in maniera simmetrica quindi avvicino la parte di sopra ecco e poi avvicino anche tra l'altro se voglio ctrl z ctrl z ctrl z posso farlo abbastanza grosso e quindi avvicinare praticamente in maniera un pochino più completa ok quindi vedete che mi metto faccio in modo tale che questa cosa si comporti come una fascia ora io ho fatto questo esempio con una fascetta perché è interessante farvi vedere un caso magari più o meno concreto in cui cerco praticamente di farlo con un abito ad esempio con una maglietta quindi queste sono cose che praticamente ecco qui praticamente a parte che poi adesso il discorso è che la simmetria potrebbe non interessarmi e poi posso farlo con un pochino più piccolo in modo tale da avvicinare in maniera un filo più realistica vedete che facciamo qua avviciniamo sopra quindi avviciniamo in maniera è un po' come se stessimo proprio facendo aderire la fascia usando la tecnica dello sculpting quindi praticamente faccio lavoro e muovo tra l'altro avendolo fatto senza simmetria diventa un filo più realistico perché la fascia più o meno si avvicina ecco praticamente ecco qui restringiamo quindi è un po' da avvicinare senza distruggere ed abbiamo una fascia sopra facciamo la stessa cosa anche sulla parte di sotto quindi diventa questo è un esempio interessante di uso ce l'ho visto proprio usare una cosa simile proprio in un video americano in cui spiegavano come fare una fascia proprio tipo fatto a mano per descrivere su un'ascia tra l'altro è fatto proprio su un'ascia allora adesso abbiamo più o meno messo la fascia attorno quindi vedete che è abbastanza realistica a questo punto andiamo a scolpire le parti un po' più quindi andiamo a livello di scultura un pochino più fine tipo 3 qui prendiamo un pennello molto più piccolo e poi andiamo a prendere delle cose un po' per rendere un po' consunta questa cosa qua quindi prendiamo il gratta vediamo un po' se il gratta ci aiuta quindi facendo il gratta vedete che andando sugli spigoli qua grattiamo un po' e rendiamo un pochino o meno un pochino più consumata questo qui agisce questo genere di cose agisce molto sugli spigoli da lavorare e praticamente si si cerca di fare in modo tale che non sia tutto questo per renderla diciamo un pochino più interessante dicono la letteratura eventualmente possiamo fare tentativi con pennelli un pochino più grandi vedete che lavora solo sulla nostra fascia e poi possiamo anche fare un po' di lavori tipo c'è qualcosa che gonfia mi sembra qua leviga piattisci pizzica elastic deform credo che sia questa che praticamente costruisce produce praticamente dei rigonfiamenti gonfia praticamente questa banda in pratica la rende vedete che la gonfia ma non la sposta da dentro cosa che farebbe il fatto il grab e la modifica quindi abbiamo lavorato fino a questo momento in due livelli in un livello che era l'1 o il 2 per far aderire la fascia in qualche modo e invece con il 3 per creare qualche difetto generale altre cose che si possono aggiungere ma magari lo facciamo a livello più alto andiamo a livello 5 che è il livello massimo e proviamo a metterci dei lavori un pochino più questo qui è una cosa che credo che metta proprio delle strisce l'abbiamo visto prima quindi lo facciamo piccolo e facciamo ecco così però ecco è troppo perché la forza è 1 quindi facciamo forza mettiamola a 0,5 e no non era questa strisce qua lo piega riempi c'era una che faceva striscia d'argilla ero convinto fosse quello ah vede questa qui praticamente genera delle strisce che danno comunque possono dare praticamente un livello di dettaglio ulteriore insomma a quello che stiamo facendo quindi qui facciamo praticamente un notate che quando poi giro mentre si muove lui non mi fa vedere il dettaglio per essere più veloce ma comunque il dettaglio vedete che rimane quindi qui stiamo costruendo un dettaglio superiore per cui adesso abbiamo questo effetto che tra l'altro vedete che c'è un pochino di difetti qua man mano dipende da come l'ho fatto quindi vado a prendermi il leviga magari e gli metto una forza non altissima perché vedete che vado a aggiustare le cose più più strane insomma che vedo le ammorbidisco se serve ammorbidire insomma per renderle un pochino meno strane insomma no perché dovete sempre creare delle cose che possono avere un loro cioè che non sembrano fatte diciamo artificiosamente comunque ci sono poi vari video adesso poi magari ne pescherò qualcuno proprio che fa questo mestiere che fa esattamente questo perché non è che sia proprio bravissimo a fare queste cose comunque supponiamo che voi a un certo punto abbiate abbiate fatto il vostro oggetto tra l'altro ricordo sempre l'effetto l'effetto diciamo l'insieme cioè questa cosa magari sarà piena di difetti ma nel momento in cui poi è in una scena più complessa quello che vedete non è tanto il difetto ma è l'insieme questa cosa qua che assomiglia a una fascetta che è messa attorno al cubo quindi è un modo per vedere questo ora questa fascetta come vedete ha vertici i soliti vertici che sono tantissimi quindi noi andiamo in modalità oggetto di questa e andiamo di nuovo a fare il mestiere che avevo fatto vedere prima perché voglio arrivare a una quantità di vertici molto più bassa quindi tanto qui una volta che sono più o meno soddisfatto della scultura faccio applica e quindi non ho più il modificatore multi res ok una volta tolto quel modificatore ci accorgiamo di avere moltissimi vertici questo oggetto ha 393.000 vertici e quindi se vogliamo portarlo in open sim o una cosa del genere dobbiamo aggiungere un modificatore decimazione e la decimazione a questo punto dobbiamo farla tipo 0,01 0,02 vediamo cosa diventa con 0,01 ok quindi gli abbiamo detto di fare la quindi siamo a 3940 vertici e direi che tutto sommato vediamolo in modalità modifica ok allora questi sono i vertici originari credo che ci fossero molti di più comunque se noi andiamo in modalità oggetto ecco ci piega tanto perché i vertici cominciano a essere tanti e la abbiamo detto facciamo la decimazione che lo porta a 3940 e si vedete che qui si vedono un po' di difetti ma sostanzialmente lo sculpting che abbiamo fatto è rimasto quindi io direi applichiamo la decimazione quindi abbiamo pochissimi vertici ok e andando in edit mode vedete che gli ridotti parecchio sono diventati molto più molto più semplici e ecco quello che volevo farvi vedere è che questa tecnica che vi ho fatto vedere viene utilizzata ad esempio da questo video per produrre queste fasce attorno a questa ascia e usa esattamente la tecnica che vi ho indicato cioè quella del costruire un multi-res vedete che lavora con livello di dettaglio abbastanza alto 4 qui suggerisce anche di lavorare poi sulla sculpt base mesh e vedete che ci lavora con vari pennelli e usa l'inflate il deflate insomma vedete che ci lavora sopra e notate che ci passa varie volte quindi è molto delicato diciamo lavorarci e poi a un certo punto passa e sceglie anche altri pennelli che vedete c'è questo pennello che mangia quello che ho provato prima che usandolo con un po' di circospezione praticamente riesce a rendere l'effetto della vedete che lavora sugli spigoli come ho fatto vedere io prima e poi usa un pennello che credo che sia blu adesso qui sta continuando a lavorare vede che costruisce proprio delle insenature sempre a livello di scolpire e usa sempre questa il pennello tra l'altro sta usando anche questo pennello che fa delle bande comunque con un po' di pazienza e magari facendo tantissime prove si può riuscire a ottenere degli effetti molto interessanti ora il video a cui sto rimandando ve lo metto in descrizione anche questo è stato fatto da poco questo video e direi che l'effetto finale è molto molto interessante e siamo in una situazione molto realistica e con questo è tutto credo eventualmente poi nei lavoratori del corso vedremo di applicare lo sculpting a parte la fascia che abbiamo visto che però ritenevo già un'idea originale ad altri esempi relativamente semplici perché usare lo sculpting subito in partenza per fare dei rivisi umani ad esempio che ho visto che i più bravi riescono a farlo per chi si avvicina allo strumento sculpting è troppo forse chiederlo quindi è meglio concentrarsi su alcune cose semplici va bene